amici di calciomercato.com ben ritrovati con l'appuntamento dell'indiscrezione quest'oggi parliamo di andrea conto in situazioni tutta indivenire perché vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi l'intenzione del milan di mandare il giocatore in prestito per fargli recuperare lo smalto quella grinta e quelle qualità che aveva messo in mostra all'atalanta ma il giocatore comunque questo momento non è convinto di lasciare il club c'è stato un confronto venerdì scorso proprio con maldina al quale è stata ribadita la volontà di rimanere al milan e di giocarsi un posto con calabria ma ci sono delle novità perché abbiamo detto del parma molto interessato ma negli ultimi giorni si è fatto vivo anche il verder brema tramite un intermediario potrebbe essere una soluzione magari più intrigante rispetto a quella del club giallo blu un'esperienza all'estero vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi comunque il milan cederebbe il giocatore eventualmente solo in prestito secco e naturalmente dopo dovrebbe rimettersi in ricerca di un nuovo terzino adesso è stato proposto anche nei giorni scorsi odier del potteram